Un saluto a voi tutti, bentrovati. Parliamo di salute, parliamo di lotta contro uno dei tumori più insidiosi, purtroppo diffusi, il tumore che colpisce la mammella, quindi che riguarda in prevalenza le donne, 55.000 nuove diagnosi accertate nel solo 2020. Ne parliamo con Luigi Amiraglio, che saluto, benvenuto, medico, chirurgo, senologo della Humanitas Mater Domini, nonché specialista al servizio del MyCheckUp, che fa riferimento proprio a questo colosso e soprattutto a questo obiettivo, che adesso andiamo a sintetizzare con qualche nozione e qualche informazione mirata. Cominciando proprio dalla domanda più importante, quella sui fattori di rischio, quali sono? È possibile individuarli? Allora, nel tumore della mammella esistono due categorie di fattori di rischio, dei fattori di rischio non modificabili e dei fattori di rischio modificabili. Fra quelli non modificabili riconosciamo l'età della donna, i fattori genetici, fattori ormonali come un menarca precoce, una menopausa tardiva, cioè un'esposizione nel periodo fertile appunto prolungato per la donna e una pregressa neoplasia ovviamente alla mammella aumenta purtroppo il rischio di ammalarsi nuovamente appunto di questa malattia. Fra i fattori invece modificabili mi preme davvero mettere al primo posto lo stile di vita, diciamo, e cioè soprattutto una sana alimentazione, un'attività fisica diciamo consona, adeguata, l'abitudine al fumo che ovviamente sarebbe sempre meglio abolire e il consumo di bevande alcoliche che anche quella sarebbe da monitorare con molta parsimonia. Inoltre fra i fattori modificabili riconosciamo una gravidanza tardiva oppure una terapia ormonale magari prolungata soprattutto dopo il periodo postmenopausale per appunto mitigare la sintomatologia del post climaterio. Per ultimo sembra comunque avere anche la sua importanza l'ambiente nel senso davvero dell'inquinamento. Senta ma i campanelli d'allarme quali sono e soprattutto come accorgersi che ci sono? La donna deve indubbiamente prestare attenzione soprattutto a due elementi, la comparsa di un nodulo alla mammella e l'eventuale comparsa di una secrezione dal capezzolo. Proprio per questo dobbiamo sottolineare l'importanza dell'autoesame, dell'autopalpazione. Questa è una buona pratica che la donna dovrebbe assolutamente prendere come abitudine ma fin dall'età giovanile, fin dai vent'anni davvero eseguire appunto questa autopalpazione con una tecnica molto molto semplice al termine del periodo mestruale appunto andare a esplorare la propria mammella per conoscere proprio anche come è strutturata la propria mammella ed eventualmente riconoscere appunto queste alterazioni. E siccome spesso la parola d'ordine purtroppo a volte è trascurata ma sempre fondamentale è prevenzione, ecco come la si traduce infatti anche con quali tempistiche? Allora in effetti dire prevenzione vuol dire fare una diagnosi precoce, vuol dire arrivare prima. Allora oltre appunto all'autopalpazione esistono degli accertamenti strumentali che aiutano appunto nel campo della prevenzione. Soprattutto dobbiamo ricordare la mammografia e l'ecografia mammaria. Sono due esami diversi complementari fra loro che hanno delle indicazioni diverse. Allora diciamo che la mammografia che è l'esame così più classico e tradizionale per esplorare la mammella ha la sua indicazione dopo i 40 anni. Perché? Perché dopo i 40 anni la mammella assume una struttura dove è più facilmente indagabile, cioè è meno densa per cui più facilmente indagabile con i raggi X, perché la mammografia in pratica è un'indagine condotta attraverso i raggi X. Mentre l'ecografia è un esame validissimo che può essere utilizzato invece anche in età giovanile, quando magari la mammella appunto è più densa. Di conseguenza anche per quelle patologie magari tipiche che sono per fortuna benigne più frequenti nella donna giovane, l'ecografia ha un significato molto molto importante. Di conseguenza appunto dobbiamo ricordare diciamo che il quadro complessivo è rappresentato dagli accertamenti strumentali, dall'autopalpazione eseguita dalla donna e dalla visita eseguita poi da uno specialista che in pratica è il compendio, è proprio la sintesi della valutazione degli elementi che possono appunto sorgere dagli esami strumentali eseguiti per poi programmare eventuali controlli futuri ed eccetera. Ma tutta questa rosa di interventi con quale frequenza bisogna effettuare? Allora direi che esiste un planning già stabilito ad esempio dai programmi di screening nazionale, screening mammografico, dove la provincia di Varese è molto attiva perché appunto prevede al di là del periodo Covid dove c'è stato purtroppo ovviamente qualche singhiozzo ma si è già ripresa l'attività diciamo a pieno regime, si prevede un'indagine mammografica, una mammografia ogni due anni nelle donne asintomatiche che appunto non presentano noduli, non presentano altri segni sospetti per cui una mammografia ogni due anni è più che sufficiente, mentre l'ecografia appunto può essere eseguita anche in età più giovane anche annualmente e la visita appunto nello stesso senso può essere eseguita o annualmente o ogni due anni dopo la valutazione mammografica. Chiarissimo, le faccio un'ultima domanda, necessiterebbe di più tempo, però la breast unit in cosa consiste? Allora parlare di breast unit significa parlare di centri dove convergono le attività e le professionalità di diverse figure e dobbiamo dire che oggi proprio la sanità nazionale prevede che questo tipo di tumore sia diagnosticato e curato proprio in centri dove esistono queste breast unit perché garantiscono davvero una completezza di accertamenti e di successive cure assolutamente ineccepibili. Per cui per breast unit si intende un centro dove collaborano diverse figure professionali a livello multidisciplinare per partire ad esempio dal chirurgo ma non perché sia la figura più importante l'oncologo, il radiologo per quanto riguarda la diagnosi, l'anatomopatologo per quanto riguarda appunto l'eventuale accertamento istopatologico, il chirurgo plastico, lo psicologo, l'infermiera che addirittura di counseling che appunto si prende cura degli aspetti anche davvero psicologici della paziente per cui appunto queste figure collaborano insieme e si è visto con studi addirittura pubblicati ormai tanti anni fa, per noi tanti nel 2012 ci sono dieci anni fa ma che sono consolidati su riviste molto 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 rinomate come British Medical Journal che nei centri dove esistono le breast unit la mortalità addirittura cala del 18% nel trattamento del tumore della mammella per cui dobbiamo assolutamente sempre favorire e davvero collaborare in maniera proprio multidisciplinare, collegiale per raggiungere i risultati migliori. Grazie, grazie dottore Miraglio per tutta questa delucidazione, arrivederci a presto, arrivederci a voi tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.